Il libro nasce dopo l'esperienza della malattia, quindi nasce dopo l'esperienza del cancro al seno ed è una raccolta di poesie che non parlano solo ed esclusivamente di questa tematica della malattia, ma che raccolgono in loro, in tutti i loro messaggi, la visione di una donna e la visione della donna è come lei vede questa vita prima e dopo la sua malattia, ma la vita che vedo io attraverso il mio filtro è comunque la vita che vedo anche nelle altre donne, quindi racconto le donne, le donne innamorate, le donne amate, le donne rifiutate, le donne ammalate, le donne guarite ed è proprio un libro scritto da una donna per le donne. Un libro che porta un messaggio importantissimo e che ha avuto comunque un grande riscontro da parte del pubblico. Sì, perché diciamo che il fulcro di questo libro è appunto una nicchia, diciamo, una donna che scrive per le donne e parliamo di donne coraggiose. Io parlo di donne forti, non per questo di donne aggressive o di donne guerriere in termini negativi, ma di donne che lottano per un motivo, per un obiettivo, senza calpestare nessuno, ma solamente riconoscendo nella propria femminilità, nel cambiamento e nel rifiorire questo messaggio profondo del rispetto della donna per se stessa e anche nella società, insomma. Poco più di un mese esatto dalla sua uscita, com'è andata? Eh, siamo stati sorpresi, sia io che l'editore, se posso dire il nome, la casa editrice Aletti. Siamo stati molto sorpresi perché il libro è già in ristampa perché è andato esaurito. È un libro che si legge molto bene. La poesia oggi non è la poesia di stanchezza, la poesia di tristezza. La mia poesia è una poesia che parla veramente a tutte le persone, di tutti i livelli culturali e quindi il libro è piaciuto e io sono contenta ed è in ristampa ad oggi, quindi a breve ci sarà la nuova disponibilità. Ultimissima cosa, chiudiamo con un messaggio a tutte le donne in vista anche dell'8 marzo. Vorrei fare i miei auguri ovviamente a tutte le donne che mi stanno guardando, a tutte le donne che lavorano, a TV Rossini anche. Festeggiate con una bella mimosa e con l'ombra di una stella. Auguri a tutte le donne. Grazie a tutti.